Ciao, io sono Patti, ciao Davide, piacere, ciao. I pazzi in bicicletta, i sogni riduci, sono solo i due signori. Ciao. Come andate? Sì, siamo finalmente... Buonissimo. Sei l'ultimo. L'ultimo. È stato, per chiudiamo così, di bellezza. È stato una o due giorni veramente durissima. Vi abbiamo fatti tutti. Tutti e 24 studi, da ieri mattina fino a... Sì, non puoi fare una firma così il testimone che ci ha andata su tutti. Abbiamo raccolto... È un'esperienza straordinaria, veramente, conoscere tutti gli artisti. Abbiamo girato un breve video, giro, giro, registro così un po' a casaccio. Ah, bello. Senza nessuna... Sì, sì, sì. Senza nessuna esigente, diciamo, velleità di fare un documentario, una cosa molto così informale. Sì, sì, sì. Alle volte la videocamera, me la dimentico, che ce l'ho accesa, la metto a punta verso il soffitto. Piuttosto che, ma comunque, diciamo che... Siete stati contenti? Sì, sì. Mi siete trovati bene? Sì, sì. Tu sei da solo o ho scritto qualcuno? No, io ho aspettato due, però non ci sono mai. Beh, non so, quasi o stranieri o... Uno è di francese, però è Louis Chambaud. Ah, sì, sì, lo conosciamo. Ah, sì, sì. Di Pinerolo. Pinerolo, sì, sì, sì. E quello è Carlo Garzione. Ah, che invece non conosciamo. Sì, 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 che c'è un po' lo conosciamo, che è un nostro amico anche. L'abbiamo aiutato a fare il suo lavoro sulla maratona. Un amico. Sì, sì, sì. Sì, l'abbiamo... Sì, l'abbiamo... Sì, l'abbiamo... Un marechino. Un marechino, eh? Fantastico. E le moglie. Ah, piacere, scusi. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie che ce l'hai aperta. Ciao, vi piaceva. Non c'era la strada. Ah, perché ne conosceva la strada, perfetto. Ecco, sì, sì, devo parlare sul tuo lavoro. Non so se hai voglia... E il tuo lavoro dovrei invece di fare venere. Ecco, sì, perché noi... Siamo venuti di qui. Ah, mi invaso a casa tua, ma... È un po' tipo il bambino di... No, di solito non parlo mai. Fai quello che vuoi. No, 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 ma io non voglio... Io voglio solo vedere, così, non più che altro. Ah, America, qua. Eh, qua. Ma io vengo... Wow, che spettacolo. Infatti sentivo l'odore di colore, di estremendina. Sì, sento l'odore di estremendina. Fantastico. E qua vado solo? Sì. Ah, sì. Il stile, ricordo un po' maldi. Vero? Sì, sì. Vagamè. Sì, il vagamè. Vagamè. Staline, no? Fantastico. Bellissimo. E tu aspetta parti da degli studi, da due interiori? Sì, faccio delle frasi, quindi cerco di comporre una figura, una modella qui. Ah, ok. Poi aggiungo delle frasi, poi... Di solito ho un tema. Sì, però non... Un'idea, un'idea. Un'idea, sì. Che poi spesso mi portano in un'altra direzione. Certo, chiaro, chiaro, chiaro. Certo. Fantastico. E questo è scritto in... In ebraico. Ello è il suo rinunitato, per esempio. Tu sei l'ebraico? No. Fantastico. Ma che spettacolo. E tu lavori qua, naturalmente. Io lavoro qua. Naturalmente. E si vede. E no, è tutto bello. E si vede. E si vede. Molto bello. Ma anche quello c'è... Sì, sì, c'è il frammento di un alfabeto, dell'alfabeto. Questo è il nuovo, nuovissimo. Questo lavoro qua? Sì, sì. Terminato oggi. Con tutt'uno dentro. Faccio pure, eh? No, la capisca. E queste frasi, le sono tue? Le sono delle cose che tu trovi? Aldamerini. Ah, ok. Sì, quindi tratti da lì. Cetture che fai. Sì, sì. Eh, ma che roba. Ma che roba. Aldamerino, Pessoa, Saramago, Ocassero. E sono stati 24 bellissimi studi. È stata una bella cosa. Abbiamo avuto persone squisite che ci hanno dato una ospitalità. e poi hanno questo, come chiuso la, eh? Sì, grande. Sì, è bellissima. Adesso mi da facciamo un belissimo. Ma questi qua che sono superi? Belli, eh? Sono molto belli. Sì. 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 Un toro, un toro, un toro, un toro. Al suo senso chiediamo. Allora, mi chiamano le mammelle. Ma scusate, non è un toro. Un toro, un toro. Perché c'era una mucca ma le mancavano le mammelle. Sì. Non è, veramente. Sono molto bellissimi, cacciano. Già. Sì. Sì, veramente. Ma poi il colore, così. Sì, un po' etereo, esatto. E poi li riparsi così a matita qua? Sì, sì, sì. Per la mia vita. Usa molto questa matita. Che è una matita... Ah, ok. Sì, questa graffite è grossa. Sì, sì, sì. Dove le ha passati? Questi qua. Vedi che sono ripassati. Guarda, vedi molto bene su questo qua. Vedi? Ah, sì, sì. Guarda questa volta, ad esempio. Vedi, gli fa le ombre, praticamente. Sì, sì. Gli togono il cotone degli occhi. Anche questo qui grande, il giocato di graffite. Con la graffite, poi. Ah, questo sì, non l'abbiamo visto. Ce l'entro lì. Sì, perché eravamo nell'ingresso. Sì. Che spettacolo. Complimenti. Grazie. Mi piace molto. Ma veramente ci ha lasciato a bocca aperta. Grazie. Mi spiego. Mi spiego. Ah, ok, sì, perché giustamente, è vero. Nell'evento doveva esserci Giancarlo Caposole, che è un musicista. Ah, ok. Poi ieri mattina mi chiama, che è stato fermato in Milano per avere un concerto. Quindi, non è potuto venire. Non è potuto venire. Che sospiro. Allora, ho detto, cosa facciamo? Un'amica che ha nel corso di nuova. E quindi, mi ha detto, mi devi dare assolutamente un manichino. Ma sei spettacolare. Spettacolare. E quindi hai messo lui a suonare. Sì, mi ha messo lui a suonare. Ma aspetta. Ho messo il disco. Ah, già. E che suona, è lui che suona. Il disco suonava, lui c'era, esatto. Cioè, è bello, tanto il musicista quello che conta è la sua musica. È sempre un'installazione. È chiaro. È sempre il fatto.